Mi sto cagando addosso... Bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video io sono Agno e oggi non sarà un video in moto ma bensì andrò con mio zio a fare il volo dell'angelo che questa cosa che state per vedere adesso vi lascio al video e niente ci rivediamo quando sarà tutto finito se sarò ancora vivo per raccontarlo bella What? Urlerò come un pazzo un po' di adrenalina in realtà mi sto seriamente cagando addosso Maurizio! Vai zì! Appeso come un maiale! Salame dai! Salame! Vai zì! Caldo! Caldo! Avverto nei primi metri però però gli occhi chiusi ve lo dico una fifa pazzesca Ricorda che l'ho arrivato? Aiuto! È sicuro? Sì! Ricordati di guardare gli operatori se ti fanno segno di aprire apri le braccia entri in casetta abbassando la testa Ok Non avrai mica paura no vero? No diciamo che l'altezza non è una cosa che mi piace Torino Mariella Libero con la via Lorenzo in posizione di volo mi confermi cavo libero? Fermo cavo libero Inizio volo Ciao Lorenzo Ciao buon volo Adio Che figata! Aiuta! E' composition Abbiamo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, te lo giuro, pensavo si sentisse la sensazione del vuoto che ho avuto a fare lì il Fly Experience con la Nettuno. Invece no, perché tutto il peso andava su una cosa. Però hai visto che nonostante l'altezza, 300 metri, quello che era, non avevi paura dell'altezza? Ma lo fa anche con le farghe di primo. Perdi la sensazione dell'altezza. Quindi puoi prossimamente... No. No, no, no. Quello no. Vai, dai. Ma perdi la paura, eh. Sì, no, no. Perdi la sensazione dell'altezza. Non conto è farla in un tubo che sai che... È una cosa lì. Noi ragazzi, questo era il video. Non pensavo fosse così figo. Devo dire, all'inizio mi stavo seriamente cagando addosso. In pratica, appena arrivati, dove arrivavano con la corda, da lì partiva il pulmino e passava da sotto la valle. E ti portava su fino all'altro capo del cavo. È solo che ti lasciava e dovevi fare un quarto d'ora a piedi. Già solo quella salita, non vi dico, le pezze, le pezze. Poi arrivavi su, ovviamente oggi non era una gran bella giornata, quindi c'era un po' fresco, diciamo. Arrivati su, caldo infernale, però devo dire che ci stava. Non c'era quella sensazione che hai magari quando in aereo, quando ci sono i vuoti d'aria, magari sai, gli intestini ti sargono in gola. Quella sensazione non ce l'hai avuta perché quest'imbragatura era, ti premeva sul petto e non ti faceva sentire proprio, vabbè, avete capito. Comunque figata, 140 all'ora, devo dire spaziale, veramente. Mi stavo veramente cagando in mano. Niente ragazzi, io vi saluto, se vi capita di farlo venite qui a Torino, lì a Frassinetto, figata, pazzesca. Non costa un cazzo, costa 35 euro singolo in coppia 60, se vi capita fatelo, è davvero fantastico. Purtroppo la moto adesso per un po' non la utilizzerò perché c'è un problema di elettronica che devo risolvere, assolutamente. Se no mi sparo in bocca. Io vi saluto, lasciate un bel mi piace, se volete commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella! Ciao!